Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Stando alla stazione di Milano Repubblica E prenderò l'S13 per Milano Bovisa Politecnico Prendo l'S13 per la prima volta Tanto sono tutti TSR Treno, Servizio, Regionale Ed ecco il binario 1 un S5 per Treviglio con tre casse Sta arrivando l'S13 che mi porterà fino ai Milano Lancietti Il treno è diretto a... This train is headed to Milano Bovisa Politecnico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La proposta Garibaldi, stazione di interscambio di rifeggiatore in proseguimento sulla linee M2, M5, S7, S8, S11 e regionale. La proposta Garibaldi, stazione di auto station, Milano porta a Garibaldi. La proposta Garibaldi, stazione di interscambio di interscambio di interscambio di interscambio di interscambio. La proposta Garibaldi, stazione di interscambio di rifeggiatore in proseguimento sulla linee M2, S5 e S6. Garibaldi, stazione di interscambio di interscambio della guita a Garibaldi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!